Il terzo libro, che è poi il motivo principale del Trattato rosminiano, si propone di contribuire a fornire le norme o regole morali che devono guidare l'uomo nei due stati fondamentali nei quali può trovarsi quando opera. Vale a dire, lo stato della coscienza non ancora formata e lo stato della coscienza già formata e che può essere a sua volta vera o erronea. La domanda è la seguente. Come deve comportarsi il singolo uomo quando non ha ancora una coscienza circa la bontà o malizia dell'azione che sta per fare? E quando invece ha questa coscienza, sia essa vera o erronea? Rosmini, nell'introduzione alle prime due sezioni, avverte che la ricerca di queste regole della coscienza, egli intenderà farla sulla scorta dei principi antichi e perpetuamente ricevuti nella Chiesa, principi che non possono essere se non veri quanto è vera la Chiesa. Non si tratta quindi di cercare una via prudenziale, ma una via vera, la quale non deve piegarsi ad assecondare le debolezze degli uomini per paura di perderli, perché lusingarli non giova affatto a convertirli e preservarli dalla morte eterna. Ecco quindi che con questa premessa Rosmini apre le porte alla prima sezione di questo terzo libro. Questa prima sezione è dedicata appunto alla individuazione di quelle regole, quelle norme della coscienza già formata che può essere vera ed erronea. Ma vi è anche un'altra questione molto complessa che troviamo in questa sezione, ed è quella che concerne l'analisi della situazione che riguarda la coscienza formata erronea, cioè una coscienza che sbaglia sia riguardo alla legge, sia riguardo all'applicazione della legge, sia riguardo all'occasione particolare alla quale applicare la legge. La coscienza può essersi formata erronea in modo veramente invincibile, come egli dice, oppure in modo che possa cambiare, coscienza erronea vincibile. Nel primo caso, cioè quando il soggetto è persuaso di agire bene, è facile la soluzione, è sempre illecito operare contro una coscienza invincibilmente erronea. Ma quando si può dire che una coscienza sia invincibilmente erronea? Per capire la distinzione tra l'errore vincibile e quello invincibile, bisogna ricordare che l'errore ha per causa o la nostra volontà o un dato falso supposto come vero. La volontà può incappare in questi errori o per sua mala disposizione o per un istinto naturale, come quando giudica, per esempio, che il sole si muove. Oppure per urgenza di operare. In tutti questi casi l'errore è invincibile e quindi innocente, solo nella misura in cui e sino a quando la volontà cade in trappola senza avervi aggiunto maliziosamente qualche suo libero consenso. Il terzo caso, poi, nel quale si suppone vero un dato falso, quando verte sull'applicazione della legge razionale, non può darci errore invincibile, perché nessuno può obbligare la nostra ragione ad essere contro un principio in noi innato. Ma può succedere che in noi vi sia ignoranza e impotenza della ragione, che talvolta però sono inevitabili e ci portano a deduzioni errate. Se invece supponiamo per vero un dato falso circa la legge positiva, basandoci sull'altrua autorità, dove in noi c'è stata negligenza o imprudenza o maladisposizione, può esserci errore invincibile. Perché dunque la coscienza erronea sia invincibile deve verificarsi un errore, che non si può assolutamente evitare perché non accompagnato da alcun suo aspetto, che non dipende dalla stortura della volontà, che anche se dipendesse dalla maladisposizione questa stortura non sarebbe attuale ma abituale necessaria. Se mancasse qualcuna di queste tre condizioni, la coscienza erronea sarebbe vincibile. Ma anche la coscienza erronea e invincibile può mutarsi nel futuro, scrive Rosmini, col diuturno studio della legge divina, con la preghiera che aumenta la grazia e con la cooperazione nostra. Chiarita la distinzione fra coscienza fatta erronea e vincibile e invincibile, Rosmini enumera una serie di interrogativi tendenti a chiarire quale comportamento l'uomo deve seguire nell'uno e nell'altro stato di coscienza. Le questioni circa l'errore veramente invincibile si risolvono con l'avvertenza a mantenere sempre la rettitudine della coscienza. La coscienza retta a volte si distingue da quella vera e può contenere anche l'errore necessario, ma contenendolo senza malizia è incolpabile. Le questioni invece circa la coscienza erronea e invincibile, sia che riguardino la legge naturale, sia quella positiva e le loro rispettive applicazioni, presuppongono sempre una coscienza non retta perché in tutte si suppone un errore volontario. Bisogna però stare attenti a dire semplicemente che la coscienza erronea vada sempre seguita, perché non sempre tale coscienza è sincera. E poi spesso accanto a questa coscienza c'è un'altra coscienza contraria. Il conflitto di due coscienze contrarie, contemporanee o di una coscienza che ne racchiude un'altra, si spiega col fatto che la coscienza erronea viene formata dalla volontà come sovrapposizione alla legge naturale, che rimane sempre in me e mi obbliga a riconoscere l'essere per quello che è. La presenza di questa legge naturale insita nell'uomo e sovrapponibile ma non sopprimibile rende impossibile la formazione di una coscienza totalmente erronea, invincibile rispetto alla legge razionale e dalla legge divina. Può succedere che vi sia su queste cose ignoranza, dovuta a debolezza nel saper trarre le conclusioni da un principio lontano, oppure in avvertenza di norme parziali e lontane dai principi. Ma un errore, perché nessuno e niente può costringere la volontà all'errore, cioè a ritenere bene il male, laddove si è vicini alla legge naturale o razionale e dai suoi primi principi. Perché dunque ci sia un misconoscimento o alterazione dell'essere veduto dall'intelletto, quindi un errore o una menzogna, bisogna che intervenga la volontà con una riflessione sulla conoscenza diretta dell'essere. I primi tre interrogativi si chiedono se l'uomo debba seguire la coscienza erronea e invincibile circa la legge razionale o una sua applicazione. Quando l'errore è volontario e libero in sé, quando è volontario ma libero solo in causa, per colpi attuali precedenti, quando la stortura della volontà è effetto del peccato originale. Sono casi che hanno in comune la stortura della volontà, quindi una coscienza non retta. Il giudizio erroneo sul bene e sul male, a sua volta, può essersi formato per un amore disordinato all'azione da compiere, oppure per un amore disordinato a ciò che vogliamo raggiungere con quell'azione. La gravità poi dipende dalla qualità morale, sia della cosa desiderata, che può essere a sua volta lecita o meritoria o malvagia, sia del bene che io considero male, che può essere lecito, meritorio o obbligatorio. Sono solo alcune delle sottili distinzioni che Rosmini propone, per così darci un'idea della complessità della coscienza erronea e della difficoltà a giudicare il grado di immoralità presente in ogni situazione. Ma, cominciando a rispondere alle questioni, Rosmini spiega che per quanto riguarda la terza, cioè, richiamiamola la memoria, consideriamo quindi la coscienza erronea come effetto del peccato originale, la volontà non può essere indotta dalla concupiscenza del peccato originale a formarsi necessariamente una coscienza erronea, perché dopo il battesimo Dio non permette che ci venga data una tentazione superiore alle nostre forze. Vi è quasi un discorso di proporzionalità in questo senso. Può esserci ignoranza e tardità nel trarre le conseguenze dal supremo principio della morale, ma non peccato perché non viene coinvolta la volontà. Rimane comunque costante la tentazione dovuta alla concupiscenza ed il dovere di difendersi da essa con la vigilanza, la preghiera, la retta intenzione. Anche alla prima questione, quella concernente la coscienza erronea, volontaria e libera, si risponde che non si è obbligati a seguire la coscienza, perché si tratta di una coscienza non sincera quando l'errore è avvertito. Mentre quando è inavvertito lo è perché l'uomo si è lasciato condurre ad uno stato di turbamento tale durante il quale non è consigliabile assolutamente operare. La risposta invece alla seconda questione, quella concernente il comportamento in stato di errore volontario, ma libero non in sé bensì nella causa, viene sciolta in più riprese elementari. Sono risposte che sono conseguenziali l'una all'altra, determinando appunto una ripresa dell'argomento e una soluzione unitaria. L'errore di questa coscienza va distinto dalla semplice ignoranza e tardità. Tuttavia la stessa ignoranza, tardità e betudine in avvertenza possono essere effetti volontari e quindi peccaminosi in causa, perché effetti di una mala disposizione precedente della volontà che non ha usato l'avvertenza dovuta. In avvertenza peccaminosa si estende molto in profondità nella coscienza e spiega perché i padri della Chiesa e la Divina Scrittura parlano di peccati difficilissimi a spiegarsi e tal misteriosi da non doversi credere più che spiegare. Fenomeno che spiega però la efficacia incredibile della volontà di sopportare e quindi di sovrapporre quasi, diremmo meglio, occultamente un giudizio riflesso in contrasto col giudizio nascente dalla coscienza stretta. Ci si può difendere solo, dice Rosmini, col timore del Signore e cercando di mantenere l'animo puro da passioni. Se si volessero cercare le ragioni per cui la volontà è malamente disposta ad ascoltare il lume interiore della verità e della giustizia, le principali sono il tenersi lontana dall'aiuto della grazia, il non volere intendere per non dover fare il bene, lo starsene troppo aderente alle cose che brama maggiormente, la trazione delle cosiddette basse passioni. Qui è la malizia che partorisce l'ignoranza e l'ignoranza a sua volta copre la malizia. Il campo dove queste coscienze erronee colpevoli cadono è principalmente quello della legge razionale, nel senso che o la trascurano o l'applicano malamente. La colpevolezza o inescusabilità sta nel fatto che la legge razionale è già dentro l'uomo. Egli concepisce direttamente l'entità delle cose e l'esigenza di riconoscere per quello che sono e quindi rispetto a questa legge ogni volontà ha il potere di riconoscerla o di sconoscerla. Queste coscienze erronee sono coscienze artificiali, posticce, sotto questo modo di comportarsi e di considerare risultano addirittura inalterabili, paiono inalterabili. La norma naturale che attinge alla verità e che si può ancora raggiungere con un sincero amore del bene e del vero rimane la possibilità, una possibilità alternativa a quanto è stato definito. Ci si può formare una coscienza erronea e non retta, quindi anche colpevole. Si può infatti sia conoscere, sia volere liberatamente senza avvertire di conoscere e di volere. Basti pensare al fenomeno delle distrazioni, per esempio. Ciò può avvenire sempre per il fatto che la sfera morale è anteriore alla riflessione sulla morale stessa e la legge considerazionale, basta che sia conosciuta direttamente per essere accettata o rifiutata dalla volontà. A fare un po' di luce su questa operazione misteriosa, presa poco in considerazione, potremmo dire ben così, dai moralisti del tempo, basti pensare al fenomeno degli abiti viziosi, i quali, una volta radicati nell'animo, spingono la volontà ad operare spontaneamente e spesso danno vita alle azioni conformi senza destare più attenzione in chi li compie, tranne qualche momento che fa loro sorgere il rimorso e la ricerca di placarlo con medicine inefficaci, perché appunto non sincere. Da qui si spiega il timore dei santi per tutte le loro azioni, timore che esse siano macchiate da qualche errore occulto, il santo che pensa comunque di non essere in grado di essere santa. Le conclusioni che ne vengono sono l'obbligo morale di rettificare la volontà di questa coscienza erronea e i due sentimenti della consolazione per chi procede con coscienza retta dell'inquietitudine e per chi mantiene una volontà invece abitualmente malvagia. Rosmini passa poi a considerare la condizione morale dell'uomo che ha la coscienza erronea riguardo la legge razionale e le sue applicazioni. Quanti peccati commette, affatto disordinato, giudizio, ingiusto, azione particolare, grado di malizia che racchiude, proporzionato alla gravità della materia. Che ruolo vi giocano l'ignoranza, l'oscurità della mente, che moltiplicano i peccati, diminuiscono la malizia dell'atto particolare, ma lasciano invece incancranita la malizia abituale. Contribuiscono a rendere più o meno storto e cieco il giudizio che crea la coscienza erronea la mala affezione, causa dei vizi capitali, l'autorità che col tempo diviene consuetudine, il male del peccato originale. La compresenza di tanti elementi ci coinvolge ad astenerci dal giudizio preciso sul grado di colpevolezza degli uomini e di noi stessi, grado che a Dio solo è palese. L'analisi rosminiana del grado di malizia della coscienza erronea si fa più fitta e diligente, quando scende a considerare tutte, e ripeto, tutte le possibili coscienze erronee individuandoli in quelle che giudicano bene il male e quelle che giudicano male il bene, confrontando fra loro le azioni secondo che avvertano su ciò che è rispettivamente lecito, meritorio, obbligatorio e secondo che il male creduto, il male creduto bene, sia di sopraerogazione oppure obbligatorio. Rimane ancora la risposta ad un altro interrogativo, che appunto era quello che chiedeva se l'uomo deve seguire la coscienza erronea circa la legge positiva e le sue applicazioni quando l'errore è attualmente invincibile, ma libero in causa. Qui la risposta è positiva, ma con l'accortezza che in molti casi queste coscienze sono per l'istante invincibili, ma sono vincibili mediante una serie di sforzi generali. Quindi si fa ciò che si crede giusto al momento, ma col proposito di liberarsi col tempo da eventuali errori nascosti. L'ignoranza della legge positiva è più colpevole quando vogliamo ignorare per scusarci del fare il bene, meno quando ignoriamo ciò che dovremmo o potremmo sapere per sbarataggine e trascuratezza, perché queste ultime non sono fatte per disprezzo. Nelle ultime pagine di questo lungo capitolo Rosmini riassume il già detto e si ferma a descrivere alcuni tipi particolari di coscienza lassa o falsamente rigida, come la coscienza dormigliosa, cioè negligente a conoscere il vero, e quella stupida che non reagisce al rimorso, le quali non sono suscettibili di sviluppo. La coscienza cauteriata, dal suo errore ne fa una dottrina da insegnare appunto, la farisaica che si gloria del proprio errore, la perplessa che è di fronte a due giudizi contrari e non sa quale scegliere, la scrupolosa, si teme senza ragione che vi sia peccato dove non c'è. Quest'ultima è più un'alterazione nervosa che una coscienza formata, si potrebbe dire un timore scrupoloso, che ha appunto la sua origine da più cause e cade su certe determinate materie presenti o passate. Si vince con la ricreazione, l'abbandono in Dio e l'ubbidienza. Come deve comportarsi il direttore spirituale o il confessore di fronte alle coscienze erronee, in modo che il suo agire sia prudente, cioè digiovamento alle anime che ricorrono a lui? Se si tratta di peccato formale, cioè di una coscienza formatasi per sovrapposizione volontaria del dettame morale naturale, egli deve come giudice valutarlo nella sua gravezza, come maestro rendere conscio il penitente e come medico fornigli mezzi per evitarlo. Se invece il peccato è materiale, cioè un errore volontario di applicazione particolare e remota della sinderesi, deve dare al penitente quella cura prudente che è utile al suo progresso spirituale, distinguendo accuratamente se la causa dell'errore sia una limitazione intellettiva oppure un'avversione al bene. Distruggere le false coscienze è un'opera importante perché la retta coscienza è il primo mezzo della virtù e dalla non retta coscienza sorgono tutti i vizi. L'uomo con retta coscienza diviene luce nel mondo perché partecipa, dice Rosmini, della luce che è in lui prima come legge naturale di verità e poi appunto per la grazia battesimale. In quest'opera caritatevole di togliere il velo della falsa e maliziosa coscienza, il confessore illuminato ha un'altissima direttrice, nel modo come il Dio educò alla virtù il genere umano. Dio infatti diede la legge mosaica per aiutare l'umanità a riconsiderare quella legge naturale che le loro cattive abitudini avevano confinata in fondo al cuore. Poi, quando anche l'aiuto della legge mosaica fu trascurato, mandò Cristo ancora per rettificare le nuove coscienze erronee e smascherare con l'ume della sua grazia la stoltezza di quella sapienza posticcia. Si potrebbe anche raccogliere un processo storico della formazione delle false coscienze. Da Adamo al diluvio si corrompe il senso esterno, dal diluvio ad Abramo l'immaginazione che sfocia nell'idolatria, da Abramo a Gesù la ragione prima con la formazione della coscienza falsa fino a Mosè, poi con l'aggiunta della malizia alla falsità. Questi stessi gradi noi possiamo trovare nella storia delle legislazioni parziali, come quelle civili e quelle degli ordini religiosi. Il confessore deve stare attento quindi, perché il suo compito non è quello di promuovere nel penitente una falsa quiete, ma la virtù. Questa prima sezione del terzo libro si chiude con l'indicazione di alcuni mezzi principali utili a purificarsi dalla falsa coscienza. È il trattato che va a concludere questa parte dandoci ben sette elementi fondamentali che possiamo considerare in questo modo riassuntivo. Il primo è il desiderio sincero del bene del vero, cioè la retta intenzione. Il secondo, che è una continuazione del primo, è il timore di perdere il bene morale, di cui la paura di perdere la felicità costituisce solo una disposizione utile. Timore irragionevole, perché nessuno è certo di trovarsi in grazia di Dio. Il terzo mezzo è la ricerca sollecita della verità e l'esame o vigilanza su se stesso, consci che nella stessa ignoranza si può annidare anche il peccato. Il quarto raccomanda di evitare l'insorgere di ogni forma di pregiudizio per conservare l'animo imparziale. Il pregiudizio stesso si forma all'interno di un corpo morale, associazione, setta, e consiste nel condividere un'opinione per autorità di quelle società nelle quali si vivono. E qui Rosmini coglie l'occasione per spiegare come non solo da lodare quei giuramenti che si fanno di tenere certe dottrine non definite dalla Chiesa, giuramenti in verba magistri che vincolano sia la libertà di riconoscere la verità dovunque essa si trovi, sia la carità che si estende a tutti gli amici della verità. Il quinto mezzo è frutto di un'acuta osservazione psicologica. Dire con frequenza a se stessi e agli altri di volere amare e cercare la sola verità, giova per arginare i mali più occulti della coscienza erronea e costituisce davanti a Dio un atto personale fatto dal principio supremo dell'uomo che annulla e sconfessa gli altri atti inferiori non avvertiti che agiscono in Lui. Il sesto mezzo consiste nella cura di purificarsi dai peccati di cui si è consci, perché questo processo di purificazione ci dà indirettamente, cioè tramite la grazia, più luce per vedere anche i peccati non avvertiti. Il settimo ed ultimo è l'orazione incessante o richiesta a Dio di intervenire Lui medesimo per aiutarci a vedere e a purificare quelli che vengono definiti da Rosmini i peccati occulti.